Battute finali per la ricostruzione privata. L'ultima pratica è stata inviata tra giovedì e venerdì. Nell'ultima giornata a disposizione sono state una cinquantina le domande presentate all'ufficio speciale, l'USDRA, diretto dall'ingegner Salvo Provenzano. Nell'ultimo mese le domande sono state invece 100. Al 30 settembre, considerando che il periodo parte dal 2009, le pratiche presentate dai privati sono state in tutti questi anni circa 30.000. Da estruire ne restano 844, alle quali vanno aggiunte le ultime presentate allo scadere. La scadenza del 30 settembre come termine perentorio era nota dall'avviso pubblicato nell'aprile 2021. In questo avviso venivano fissati anche dei paletti. Se ad esempio un consorzio non è stato costituito entro il 30 settembre, anche se la pratica è stata presentata in tempo, non viene presa in considerazione. In questi giorni i tecnici dell'USDRA stanno facendo davvero gli straordinari per stabilire o meno l'ammissibilità delle ultime domande presentate. Solo dopo, caso per caso, sarà possibile chiedere le integrazioni, che dovranno comunque essere assolutamente fornite nel giro di pochissimi giorni. Per la ricostruzione privata sono stati chiesti 8 miliardi di euro, concessi poco più di 6, e c'è una previsione di spesa di oltre un miliardo per gli importi ancora da istruire. La strada però non può dirsi conclusa, perché c'è la ricostruzione pubblica da considerare. Anche il Premier Draghi, nella sua visita, ha rimarcato l'obbligo di accelerare. A proposito di ricostruzione non materiale, gli occhi al momento sono puntati anche sugli investimenti del fondo complementare, dopo il lavoro della cabina di regia. I fondi prevedono interventi per il potenziamento dell'infrastruttura digitale per 185 milioni di euro, lo sviluppo delle comunità energetiche con 235 milioni, rigenerazione urbana dei borghi dell'Appenino centrale con 325 milioni, il sostegno agli investimenti produttivi con 380 milioni e poi fondi per cultura, turismo, sport e inclusione sociale per 180 milioni, valorizzazione delle risorse ambientali, forestali e agroalimentari per 60 milioni e la creazione di centri di ricerca per l'innovazione con 80 milioni, tra cui la realizzazione del centro all'Aquila per la formazione di funzionali e dirigenti statali. Ad illustrare la ripartizione è stato il commissario Giovanni Legnini, finanziamenti importanti che porteranno benefici anche alla linea ferroviaria Terni e Rieti-L'Aquila, che sarà convertita a idrogeno per le aree interne. Si potranno progettare anche i primi lotti funzionali dell'Aquila Matrice e realizzare una delle centrali di produzione e distribuzione dell'energia verde nel capoluogo.